Claudia Martini per Arezzo Web Informa, siamo con Simon Pietro Palazzo, responsabile dell'organizzazione della comunicazione del Movimento per Totti che ha sbarcato anche ad Arezzo sulla scia di Lucia Tanti. Sì, abbiamo iniziato questo percorso da un'assemblea, quando ricordiamolo Giovanni Totti era uno dei due coordinatori nazionali di Forza Italia, un'assemblea che si chiama l'Italia in crescita del 6 luglio, da lì poi per screzzi secondo me non razionali con il partito dove si chiedeva un'apertura, una partecipazione massiccia anche attraverso lo strumento delle primarie, in realtà Forza Italia ha deciso di abbattuare il progetto. Giovanni Totti, che tutti conoscete come governatore della regione Liguria, penso che sia uno dei migliori anche come grado di conoscenza, di capacità amministrative, ha continuato in questo progetto. Noi ci abbiamo parlato, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo sostenuto, le cose stanno veramente andando bene perché la novità è che è un partito dove non ci sono ruoli preconfezionati ed eterni, ma chi vi parla ha un ruolo a termine, a scadenza perché quanto prima, una volta approvati gli statuti che sono stati pubblicati il 2 di settembre, una volta costituiti i circoli, quindi ad esempio in Toscana procederemo anche a livello regionale ad eleggere il nostro coordinamento e quindi il coordinamento che sarà attivo per quanto riguarda le elezioni regionali e che sarà anche attivo per quanto riguarda le elezioni nei comuni della prossima primavera in Toscana. Rimanendo in temi di novità ce n'è una importante. Sì, in me di qualche ora fa mi hanno appunto, come ti avevo anticipato, inserito nel Comitato Costituente Toscano io e Lucia, tanti siamo, come dire, uniti in questa avventura tu sai che con Lucia abbiamo un lungo trascorso in Consiglio Provinciale insieme quindi la nostra è un'esperienza politica attiva e collaudata e siamo due persone che veniamo dal mondo cattolico nel centro-destra c'era una mancanza di una forza chiara, cattolica, conservatrice di stampo moderno che facesse delle proposte tant'è che il nome cambiamo, come vi dicevo, è proprio fuoriero anche di novità tra cui il metodo di partecipazione tutti potranno fondare dei circoli senza limitazione alcuna e quindi in virtù di questo progetto partiamo e andremo avanti Dopo la domanda che mi fanno tutti, cosa farete prossimamente come dico sempre, prima costituiamoci e poi vedremo i passaggi ulteriori però diciamo la sensazione è molto positiva Prossimamente perché ci sono due importanti appuntamenti elettorali nel 2020 le amministrative della città di Arezzo e le regionali Sì, noi per quanto riguarda le regionali ovviamente manteniamo la stessa linea che avremo nel Comune di Arezzo Siamo fortemente d'accordo con l'amministrazione di Ghinelli e abbiamo già avuto i contatti dando la nostra piena disponibilità anzi allargando attraverso noi anche tutto un mondo civico a sostegno dell'amministrazione Ghinelli che secondo noi sta facendo bene ancora sta portando avanti un programma interessante Per quanto riguarda le regionali appunto i tavoli di trattativa sono ora in fieri stamattina c'è un articolo della Lega che dice che sarà competenza loro esprimere un candidato vedremo, io dico sempre che il centrodestra vince se rimane unito e se vengono comunque ascoltate le voci di tutti poi giustamente chi ha il 30% deve come no esprimere la propria opinione però finora in Toscana si è vinto quando siamo stati uniti quando qualcuno ha cercato di fare lo strappo in avanti da solo purtroppo si è sempre fatto vincere lo stesso sistema che se mi consenti si vocifera, si alleasse con 5 Stelle sarebbe una gestione della regione toscana di sinistra a sinistra come la chiamo io che sarebbe deleteria per il futuro nostro, i nostri cittadini Continuare ad andare avanti e continuare a puntare su che cosa a livello amministrativo, locale o comunque regionale? Io penso che il sindaco è una persona talmente schietta, onesta e trasparente che l'ha già detto non è che ci si può accontentare di un cambiamento di soli 5 anni le macchine pubbliche, la macchina burocratica è una macchina molto lenta purtroppo a reagire sapete benissimo che una finanziaria già può far cambiare un progetto di 3 anni di un'amministrazione ne stiamo parlando adesso a livello nazionale di finanziaria io penso che però il taglio che ha dato, le innovazioni che sono state date le risorse che stiamo trovando faccio un esempio solamente sulle partecipate e le fondazioni che sono non passive ma attive nel cercare fondi, reperire penso che Arezzo Intura è stata un'ottima idea la stessa fondazione Arezzo Cultura abbiamo partecipato che sono delle eccellenze penso ad Aisa Impianti, penso ad Atam e abbiamo tanti progetti da fare per migliorare questa città ci sarà lo spostamento come tutti sanno della caserma per proteggere ancora di più un quartiere che ha subito tanto che è a Saione e ci sono dei nodi sulla viabilità che sono in corso di scioglimento ad esempio tutta la questione della viabilità intorno all'ex area Lebole e alla Camera di Commercio che sono oggettivamente delle priorità perché uno che viene a Arezzo vuole vedere una bella presentazione e non un work in progress che non sappiamo mai poi come andrà a finire quindi queste sono tutte cose già diciamo programmate, già anellate che stanno portando avanti con criterio e secondo me anche con efficacia Grazie Prego a voi